C'è sta il poliziotto sull'autostrada che ferma una macchina con 5 vecchietti che stanno andando lente, lente, lente 22 all'ora a un certo punto si ferma e gli va, ma che si sta da fare? Perché andate così piano? Senti un pericolo per le altre persone Cioè che siamo in pericolo? Scusa, è il limite dell'autostrada C'è scritto A22, diciamo A22 mica la velocità, quello è il nome dell'autostrada Ma perché le altre signore sono tutte terrorizzate? Perché siamo appena uscite dalla A240